Un momento emozionante, molto emozionante, molto. Siete bellissimi, molto originale. Forza a Cagliari. Molto di più che tanti auguri. Speriamo che non vi facciano piangere perché non ho neanche un fazzoletto e soprattutto dentro la borsa non ci sta niente. Che sia una bella giornata, che sia l'inizio di una bellissima avventura insieme. Siamo molto emozionati e è un giorno felicissimo. Viva l'amore! Questa volevo dire. Viva l'amore! Devo dire qualcosa? Auguroni per quest'amore romantico internazionale. Interraziale, non so cosa dire. Sono felicissima. E una volta tanto non ho tanto da dire. Lei, signor Ferreira Orzocco Roriki Daniel, intende prendere moglie la più presente Dottese Giulia? Sì. Lei, signorina Fertese Giulia, intende prendere matrimonio il più presente Dottese Giulia? Chiara il nome della legge e siete uniti in matrimonio. Sono felice veramente. Spero che abbiano tanti bambini, che siano tanto bene in giro per il mondo. E poi rispondi in fin! URA! Sì! Che trasferana! Che sauroso! Prezambi! Auguri ragazzi, mi raccomando, fate da bravi. E' un poca lupo. Auguri. 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 Tanti auguri. Tanti auguri. Per il resto a cantare. E' un poca lupo. Grazie a tutti